ricordatevi di impostare la sensibilità bassa o alta a seconda delle vostre esigenze sensibilità alta dalla priorità agli assi x e y quindi nei movimenti verticali e orizzontali noterete un'accelerazione un po più avanzata nei movimenti bassi invece date la priorità agli assi totali quindi assi x y e assi obliqui quindi se tentate di effettuare un cerchio mentre utilizzate la modalità mirino noterete che è tutto particolarmente lineare quindi se giocate ad un gioco dove volete utilizzare particolarmente una mira lenta e precisa consigliamo di impostare la sensibilità bassa